E' partito l'incontro tra le figli di Montre. Colpita la console. Una rimetta laterale. Travessa, travessa, colpita da Luca Franceschini. Ci avete la scritta voi, voi delle tigre. Tirò! Gran gol di Flumiana. Una a zero. Per la mano. Una grande pagana. Siamo! E' piede, Glorio! Daniela! Daniela è il mio! Guardi gol! Guardi gol! E' lo stop! Contro Daniela! Attenzione che uscirà! Tirata immediatamente! Ecco Marta! Melania! C'è un batti ai batti! Avanti! Vieni in avanti! C'è il tiro! Daniela! Daniela! Dipende bene la porta! Vieni in avanti! Vieni in avanti! Ecco Serena! Colpo di... C'è un colpo di Bacher! Attenzione! Vieni in avanti! Gentivo! Parata di Daniela! Bravissima! Piano! Piano ragazzi! Piano! Piano! Ehi! E c'è il gol! Bellissimo! Gol di scivolata di Del Muto! Molipissime viene da avanti! Zionbatta e ribatti! Piazza viene in avanti! Rimetta viene dall'altra parte! la palla viene messa al centro ecco Luca che viene in avanti cerca di proteggere la palla dribbling contro derivi tunnel, tiro piano ragazzi, piano